Health & Beauty New Generation Questo boutique course è stato per la prima volta realizzato in collaborazione con due grandi manifestazioni fieristiche Exhans, la fiera dedicata alla profumeria di micchia, e Pagicin Premiera. Abbiamo creato una serie di spazi dedicati a nove nostri studenti che hanno realizzato completamente un prodotto da zero, ovvero un profumo. Un profumo nella fragranza e un packaging che è stato creato apposta per Pagicin Premiera. Un corso molto particolare che abbiamo ideato un anno fa proprio per andare a colmare quelle lacune che di solito in un corso con grandi numeri di studenti non si riesce a fare. Cioè quello di avere pochissimi studenti, dedicargli il maggior tempo possibile noi come docenti e le aziende partner come supporto operativo e applicativo. Queste nuove applicazioni che presentiamo partono dalla realizzazione di un mood board, di un concetto molto forte, legati sempre a una fragranza e che hanno permesso poi di arrivare a delle idee innovative che un domani potrebbero essere probabilmente applicate anche in un ciclo produttivo vero e proprio. Coordinare in un'ottica di didattica innovativa non significa soltanto allacciare rapporti tra gli studenti ma soprattutto con le aziende esterne partner che hanno permesso la realizzazione degli elaborati finali. Questo corso mi ha dato l'opportunità di entrare in contatto diretto con aziende di settori eterogenei, dalla fragranza al packaging e non essere più relegati esclusivamente al luogo universitario. Non solo abbiamo partecipato con marcas di gran riconoscimento, ma anche abbiamo esposto a ferie che non ho pensato di essere. Grazie molto a questo corso perché tutti i nostri colleghi siamo venuti da diversi background, diversi paesi, diversi corsi. Questa nuova esperienza, diciamo, può usare nella mia professione quella di interior design. La provenienza di ciascuno di noi d'ambiti del design diverso ci ha aiutati a estrapolare dal concetto principale visioni molto interessanti dello stesso. È incredibile come di un progetto che è universitario al final possiamo esponere in eventi di questo tipo. Il mondo del packaging e della profumeria era un mondo a me sconosciuto e questa è stata una grande e bellissima opportunità per arricchire la mia esperienza. Penso che potrei valutare anche di rimanere in questo mondo lavorativo in futuro. Sicuramente il Boutique Corsa del Politecnico è il primo progetto unico e dedicato a questa nuova dinattica. Sicuramente il Boutique Corsa del Politecnico è il primo progetto unico e dedicato a questa nuova dinastica.